Andiamo verso la conclusione di questo percorso introduttivo di ispirazione legato al Mos Majorum con l'ultimo pilastro, non l'ultimo perché c'è un reale ordine, ma per l'ordine che appunto abbiamo scelto insieme di trattare questi argomenti, questi temi e l'ultimo è la Maiestas. La Maiestas che cos'è Michele? Beh, è forse l'unico dei termini di tutti gli altri valori che abbiamo visto insieme che in effetti corrisponde abbastanza bene nella traduzione italiana. La Maiestas, infatti tradotta come Maestà, sta proprio ad indicare nella Roma Antica, nel mondo antico la dignità dello Stato, l'orgoglio di appartenenza, la fierezza di appartenere a una comunità più grande e una comunità più grande che chiaramente si va ad identificare in maniera così banale nessuno ha seguito tutti gli altri percorsi, rivoluzionaria, se invece la collochiamo al mondo d'oggi sulla solita tripartizione della Fides, ossia famiglia, patria e ordine sacro, cosmos in generale. Quindi sono fiero di essere figlio dei miei genitori, sono orgoglioso di appartenere, beh, per gli antichi romani al popolo romano, quindi alla patria, sono orgoglioso chiaramente di far parte di un organismo più grande, sacro, che possiamo definire con il termine greco antico cosmos. Da questo concetto va a discendere tutta una serie di impostazioni proprio concrete del diritto romano, non ultimo il famoso reato di lesa maiestatis, ossia tradotto per noi oggi di lesa maestà, ossia quel reato che era abbastanza grave, insomma non era una roba da poco, che è andato a istituire nel diritto romano per colpire coloro i quali deturpavano le opere pubbliche, mancavano di rispetto nei confronti dell'imperatore, del senato, dei rappresentanti, insomma civici e civili e le punizioni appunto potevano anche essere severe, perché potevano essere severe? Per un moto egoico dei rappresentanti, ok, ufficialmente noi non lo sappiamo, nel senso che non c'eravamo, la realtà dei fatti è che il concetto importantissimo della maiestas è che se uno fa un crimine verso le istituzioni, fa un crimine verso la comunità, quindi va a ledere l'intera comunità. Cosa che è presente anche oggi, no? Certo, esattamente, questo reato resta, diciamo che resta solo il reato ecco della maiestas, perché per il resto Michele non c'è più nulla, ma infatti poi di questo insomma ne andiamo a parlare in quest'ora, è importante perché appunto l'esa maestà che abbiamo ad esempio il vilipendio della bandiera, il vilipendio nei confronti presenti alla Repubblica o precedentemente appunto nelle società magari più tradizionali, quelle nel Medioevo erano quelle feudali, nel Sacro Romano Impero o nelle monarchie c'è appunto l'alesa maestà, ossia andare a insultare, a vilipendere la massima carica dello Stato, ipotesi, il re, la regina, l'imperatore o nel nostro caso è Presidente della Repubblica, significa andare a colpire il cuore delle istituzioni stesse che nella teoria romana dovrebbero essere la sintesi hegeliana ecco della comunità stessa, quindi come la comunità riesce a concretizzarsi e a concretizzare che cosa è la sua volontà di potenza, la sua pietas, la sua virtus, tutto quello che abbiamo già visto si dovrebbe concretizzare nelle massime cariche di questo Stato. C'è un altro elemento che è importante per introdurre la maestas perché io sono orgoglioso, sono fiero di appartenere a un popolo, senza tra l'altro cadere in peccati di superbia si potrebbe dire, perché? Perché c'è sempre la gravitas di fianco quindi entro la fine dell'ora andremo insomma a fare la somma di tutti i cinque pilastri del Mos Maiorum, ma significa di fatto che la grandezza di un popolo sta anche nell'essere fieri di sé, nel conoscersi, di essere fieri di sé, di sapere di appartenere a un popolo e anche considerarlo come facevano i romani, gli antichi romani, il miglior popolo che è, attenzione, sì, superiore, migliore rispetto a tre criteri importanti, civiltà, cultura e costumi. Quindi la capacità non soltanto tecnica bellica di Roma ma anche la capacità proprio di imporsi come sistema di vita è centrale proprio perché parte dal presupposto che i romani erano in grado di andare a civilizzare, a portare cultura, a sgrezzare i costumi delle popolazioni che loro soggettavano. Ultimo dato di analisi, attenzione, perché i romani in questo riescono ad applicare sia nella fase repubblicana ovviamente a fase alterne, sia nella fase imperiale, questo concetto grazie anche a un'umiltà di fondo che gli consentiva anche di andare ad apprendere, a considerare giustamente Cives Romano un cittadino romano, anche i popoli assoggettati, qui non si è più straniero ma cittadino dell'impero e quindi anche andare ad assorbire il meglio che queste popolazioni potevano portare all'interno di questa grande comunità che appunto doveva essere l'impero, i territori di Roma e via discorrendo. Quindi questo senso di superiorità ben diverso dalla superbia. Ecco. E con questo insomma è un po' l'introduzione alla maiestas Michele, giusto a livello concettuale, che cosa vuoi aggiungere, che cosa ci puoi dire? Guarda io cercherei anche di soffermarmi dal punto di vista psicologico della maiestas perché è molto anche attuale. Che cos'è alla fine? Essere orgogliosi, fieri e sicuri di se stessi in sostanza. Quindi tu sei nato in questo mondo con delle caratteristiche particolari e devi essere orgoglioso di quello che sei perché non sei venuto in questo mondo a caso. C'è un perché e questo perché tu lo devi onorare e per onorarlo devi agire nel mondo con potenza, con fermezza, con fortitudo, dicevano sempre i romani. Quindi è un aspetto fondamentale non soltanto dal punto di vista sociale, come sottolineavi tu, quindi l'importanza di essere orgogliosi di appartenere ad una civiltà, ad un popolo come si sentivano i romani che in quanto romani si sentivano portatori di civiltà nel mondo. Loro ovviamente avevano una visione molto alta di sé, cosa che è rimasta ad esempio in alcuni popoli anche attualmente. Ad esempio possiamo pensare un po' ai francesi che hanno questa visione molto elevata di se stessi, gli inglesi e soprattutto gli americani in occidente. Gli americani, il popolo degli Stati Uniti in generale si sentono un popolo superiore. Perché? Perché sostanzialmente non sono stati mai sconfitti. Se voi guardate i popoli che ho appena finito di nominare, nel senso a livello militare, non hanno mai perso, quantomeno negli ultimi secoli. La stessa Francia, anche se nei fatti sappiamo benissimo, ha perso in realtà la Seconda Guerra Mondiale, perché è stata invasa dalla Germania, però è riuscita in qualche modo, con De Gaulle e insomma tutta una serie di storie, a insabbiare questa visione e a passare dal lato dei vincitori. Gli inglesi, sappiamo bene, non sono mai stati veramente invasi, se non per un periodo dai romani, però da quando è finito l'impero e da quando si sono identificati come popolo, poi sostanzialmente sono stati sovrani, quindi c'è stata sempre di più questa visione di appartenente ad una razza, un popolo superiore, perché poi ci sono alcuni popoli, come adesso magari accenderò, che si basano sul concetto di razza, come era quello tedesco ad esempio, e altri invece, come facevano i romani, su una funzione giuridica dello Stato, come i francesi o in buon parte anche gli inglesi, stessa cosa degli americani e anche i russi, attenzione, perché non è un caso quello che sta avvenendo adesso, perché la cosiddetta appunto maiestas è molto presente nel popolo russo ed è questo anche il motivo per cui sta avvenendo quello che sta avvenendo, cioè la volontà, la voglia di appartenere a qualcosa di superiore, di sentirsi parte di qualcosa di superiore, di avere uno scopo, una funzione da portare nel mondo, quantomeno loro, diciamo così, nei paesi che sono alla Russia vicino, o comunque che fanno parte del concetto russo in quanto visione, è bene, quella è anche maiestas, è completamente assente ad esempio in Italia per motivi molto semplici, perché l'Italia è stata, è stato serreno in sostanza di conquista da parte di altri stati dalla fine dell'impero romano in poi e quindi è diventata, è sempre rimasta un po' una terra di conquista e quindi è andata completamente a farsi benedire questo concetto di maiestasi in Italia. Però questo per dire che sia, che è qualcosa di, che continua a essere presente, non si tratta semplicemente di qualcosa che apparteneva solo ai popoli antichi, al mondo anticolo, ma è qualcosa che è ben presente e radicato tuttora in noi, perché è qualcosa che appartiene a noi, perché se una persona, anche la singola persona, non si sente sicura di sé, non si sente forte, proprio si autoconviene. Diceva Nietzsche, adesso mi viene in mente una frase, dove diceva che la supervi è necessaria anche a sentire la vita, ovviamente lui utilizzava questi termini più forti per rendere il concetto, ma ti devi sentire importante, ti devi sentire forte, devi sentire la potenza scorrere in te per poterti sentire vivo. E come vale per il singolo individuo, vale per gli stati e lo stiamo vedendo tutt'oggi. Assolutamente, infatti negli esempi che hai portato di coloro che hanno quantomeno un'idea di grandeur, appunto quella francese, oppure appunto è nominato gli inglesi, i russi, è tutta gente che comunque nella storia, più o meno recente, si sono contraddistinti, ovviamente anche gli americani, si sono contraddistinti per avere un impero abbastanza esteso. Nesse impero francese, ragazzi, ricordiamoci che con De Gaulle c'è la decolonizzazione, poi sappiamo perfettamente che realmente di decolonizzazione non si può parlare con il franco CFA, con tutta una serie di misure che sono ancora considerate coloniali, c'è stata la guerra d'Algeria, dell'indipendenza appunto degli algerini, c'è, ricordiamoci, gli inglesi fino a Gandhi erano in India, quindi, e attenzione, anche adesso c'è il Commonwealth che di fatto è un circuito economico sicuramente di supporto che è ben esteso all'interno a paesi molto importanti, insomma, e gli inglesi ne sono leader, gli americani sono i leader dell'Occidente stesso. I russi, anche se adesso appunto stanno vivendo questo momento evidentemente difficoltoso con la situazione bellica in corso, sono a capo della federazione russa. Se in questo vogliamo aggiungere due popolazioni molto curiose, se vogliamo applicare il concetto di maiestas, una sono i cinesi, che ce l'hanno, ma secondo dei criteri per noi molto poco comprensibili, affondando appunto le loro radici culturali nel confucianesimo, che comunque sia per quanto simile, alla fine se vogliamo andare a sgrossare il discorso appunto culturale, troviamo che ci sono, come da tutte le parti, delle analogie senza dubbio, però hanno un modo che è sinceramente differente, ecco, rispetto a quello del Mos Maiorum, piuttosto che di altre, insomma, filosofie. Un altro molto curio, e anche loro, insomma, hanno avuto il grande impero celeste, e adesso comunque sia la Cina comunista, diciamo che è la seconda superpotenza, e seconda non per forza in ordine di importanza, perché dopo questo periodo sarebbe andare a ristabilire gli equilibri, ok, tra America e Cina, comunque sia, si sarà questa sorta di nuova yalta, e c'è da una parte la visione americana, dall'altra quella cinese, quindi anche la Cina ha un certo tipo di importanza, non dimentichiamo, attenzione, il Giappone. Il Giappone che ha una grandissima tradizione spirituale, legata agli antenati, imperiale, perché anche lì l'imperatore è stato di fatto ucciso, non fisicamente ma spiritualmente, come richiesta dagli americani, perché se no sarebbero stati ingestibili. Attenzione, su questo bisognerebbe fare una puntata ad hoc e andare a spiegare questo passaggio come vero, insomma, bottino di guerra degli americani dopo la seconda guerra mondiale, è tremendo, non certo punto di vista. L'aglio della bomba atomica è dovuto anche a questo, affiaccare il morale. Certo, 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 e togliere però la divinità dall'imperatore, non è che i giapponesi fino al 45 erano convinti che fosse veramente un uomo divino, ma è il ruolo di capo spirituale del Giappone, dell'imperatore, che è importante, perché sintesi è quella che dicevo prima della maiestas, in quel caso giapponese-nipponica. Quindi tutti i paesi che tu hai giustamente nominato con la giunta di questi, si potrebbe parlare anche dell'India e di altri, esprimono un orgoglio, un sano orgoglio equilibrato nell'essere appartenenti al proprio popolo, alla propria tradizione, ai propri antenati, perché ricordiamolo, forse non l'abbiamo ricordato o non si ricorda forse mai abbastanza, che appunto Mos Maiorum è il costume degli antenati, perché negli antenati c'è la storia e c'è la memoria, e non a caso sia la Pietas che la Maiestas si esprimono inizialmente attraverso il rispetto e l'orgoglio sano di essere figlio dei propri padri, dei propri genitori, e quindi essere figlio della propria patria, e quindi essere orgoglioso delle istituzioni che la propria patria riesce ad esprimere. Chiaramente se va a mancare questi passaggi non si arriverà chiaramente mai al sacro, che è il passaggio successivo, o forse è il primo a seconda di dove si vuole cominciare a vedere questa catena di collegamenti, però è ovvio che mancando questo, quindi mancando l'orgoglio nei confronti dei propri genitori e della propria patria, non si può esprimere quel concetto che te dicevi della superbia, del sentirsi, appunto io direi, orgogliosi, fieri di se stessi e quindi avere anche un certo tipo di sicurezza interiore, se manca questo Michele non si va da nessuna parte, non a caso in Italia, tendenzialmente in Europa, ma in Italia in particolare, insomma più che darsi addosso, considerarsi l'italietta, essere un popolo gretto che viene ricordato semplicemente per le sue mancanze, i suoi difetti, e invece mai per quelle grandi qualità che riesce comunque tuttora a esprimere, è diciamo sintomo proprio di mancanza di maiestas e non può essere che preludio di tempi difficili, insomma. Ma certo, assolutamente, infatti non abbiamo più nemmeno grandi scrittori, grandi registri, questo è importante, grandi musicisti, perché? Perché è la sicurezza di sé, la maiestas anche a livello personale che ti porta a fare grandi cose, se non sei sicuro di te, non riesci nemmeno, perché alcune persone non riescono a parlare in pubblico? Ad esempio, alcune addirittura proprio nemmeno di fronte a poche persone, cadendo in quel famoso vortice che porta poi a non esprimersi pubblicamente mai, addirittura c'era stata una ricerca americana di tempo fa dove veniva affermato, insomma, che la più grande paura dell'essere umano ad esempio è parlare in pubblico, più della morte. Perché? Per un motivo molto semplice, perché se tu non ti senti sicuro di te, tu nei fatti ti spegni, finisci di vivere, cancelli la tua energia di vita, il tuo senso di vita, il tuo pulsare in questo mondo. E questo, se vale per una persona singola, vale a maggior ragione per un popolo, un popolo che non ha una visione di sé forte, sicura, che non si sente orgoglioso di se stesso, è destinata a morire, ad autodistruggersi. Assolutamente. E' quello che stiamo vedendo in Italia in questo periodo, già negli anni precedenti, ma soprattutto negli ultimi trent'anni è fin troppo evidente. Evidentemente, come hai sottolineato bene, le popolazioni che mantengono ancora un certo tipo di maiestas, magari poco temperate, con poca gravitas, giusto per usare i termini latini, sono quelli che ufficialmente non sono mai stati sconfitti o non si sentono sconfitti. Noi vorrei ricordare una cosa, l'Italia ha vinto la prima guerra mondiale, si siede al tavolo dei vincitori e nasce la vittoria mutilata, come la definì giustamente D'Annunzio. Quindi anche vincendo non riuscì a godere all'interno della popolazione di un senso di vittoria, anzi vittoria tradita, la vittoria mutilata, il dover andare a riprendersi fiume con forza, attenzione, con il Natale di sangue che poi susseguì a quella vicenda, la dice lunga, con la seconda guerra mondiale chiaramente da sconfitti ma con l'ipocrisia di festeggiare la fine della guerra, che si festeggia una sconfitta militare, evidentemente è gravissimo perché va continuamente a rimarcare il fatto che non si è fieri, ma si è quasi fieri di essere sconfitti, di aver vinto contro se stessi, dicono ma la cosa evidentemente da un punto di vista psicologico come hai introdotto te è molto grave, al netto che ogni sconfitta è grave, il fatto oggi di cercare di essere fieri di qualcosa è sinceramente molto difficile, soprattutto perché nello stato attuale il mondo occidentale sta vivendo assolutamente un periodo di parziale, per non dire continua ed esponenziale, sgretolamento dei valori e proprio delle radici stesse, dei popoli, degli uomini con la propria terra e con le proprie tradizioni, con le proprie famiglie, quindi per il mondo occidentale è ancora più difficile, la Francia e l'Inghilterra riescono perché appunto seguono un altro tipo di linea all'interno, però signori è sempre più dura per oggi sentirsi orgogliosi di appartenere a qualcosa di più grande, da dove partire? Ma anche essere orgogliosi di se stessi, della propria natura, ormai diventa... Ma questo è conseguente, insomma non si sa se è nato prima l'uovo o la gallina, insomma, ecco tra le due. Se noi pensiamo che siamo arrivati al punto che le persone hanno difficoltà ad ammettere di essere, tiro fuori appunto un argomento forte oggi, ad ammettere serenamente di essere etero, per dire, cioè oggi è diventato un problema addirittura affermare questo, e se uno ha la natura da etero, qual è il problema? Eppure è diventata un motivo di insicurezza. Certo, certo, certo. Stiamo attenti a quello che... Quindi se addirittura andiamo a toccare l'instabilità di concetti basilari sul proprio essere, sul proprio corpo, beh, figuriamoci su tutto il resto. Ma giustamente quello che dici te ci ricollega al primo pilastro, al primo valore che abbiamo analizzato insieme, che è la virtus. Se uno già si vergogna della propria virtù, dell'essere forte, ma anzi, deve aver paura a coltivarlo, perché giustamente verrebbe, non so, tacciato di qualcosa, o comunque sia stigmatizzato in modo negativo, evidentemente non potrà mai essere un popolo maestoso questo, perché evidentemente se manca virtus non può esserci maiestas, se non c'è gravitas ovviamente non ci può essere fides né pietas, e quindi neanche maiestas. Quindi come ho ripetuto insieme a te e Michele, in queste puntate se ne manca uno mancano tutti, evidentemente. Se la maiestas l'abbiamo scelta di tenere un po' come sintesi finale, ecco, del Mos Maiorum, di essere orgoglioso di se stesso, dei propri padri e di quello che si è fatto con gravitas, quindi senza scadere nella superbia di bassa lega, ok, quella che è detta in termini molto aulici, giusto tramite il tamarro di periferia, ok, senza finire ad essere evidentemente dei tamarri, con il petto di fuori a fare veramente magari delle sceneggiate così disdicevoli, è un problema. Cioè nel senso, come si trova anche lì la misura di una giusta e di una corretta maiestas? Beh, secondo me in due modi, uno con la gravitas, quindi con l'autocontrollo, il mettersi in dubbio, quindi tutto quello che avevamo affrontato la volta precedente, dove il dubbio è il dubbio socratico, quindi di andare a cercare una crescita reale interiore, non è il dubbio nevrotico autodistruttivo, ok, ma è quello di continuare a cercare quella verità interiore che permette poi di dare solidità alla propria azione, che se sei d'accordo è la prima possibilità per evitare appunto di eccedere in un narcisismo fuori senso. E il secondo aspetto è quello di essere ancorati alla realtà, quindi sono orgoglioso di quello che ho fatto, sono orgoglioso di quello che hanno fatto i miei padri, e sono orgoglioso di quello che ha fatto la mia patria, di quello che esprime la mia patria, di quello che le mie istituzioni ha messo, noi oggi in effetti versiamo in un momento particolarmente tragico, però, ok, di quello che l'istituzione... Sorgogliamo sull'istituzione momentanea e via, che hanno realmente costruito, e su questo i romani l'hanno fondata, signori, il diritto per quanto astrazione, però nasce per creare una regola che va a incidere nella realtà, attenzione, l'ingegneria, la guerra, il rito di cui abbiamo già diffusamente parlato insieme in queste puntate, sono tutte cose nella realtà, quindi cose che si è costruiti con il sudore, con la fatica, con l'ingegno, con la voglia, con la volontà, ma anche con l'amore di vivere, che è una cosa importante, ok? Questo da autostima, nel senso corretto del termine, significa una stima, una valutazione corretta di sé, e allora puoi essere orgoglioso, senza scadere nel narcisismo della superbia. Ecco, effettivamente è una parola che mi stava sfuggendo, e l'hai tirata fuori tu in maniera proprio puntuale, autostima. Alla fine la maiestas in sostanza è l'autostima, l'autostima sia a livello individuale, sia a livello di società, quindi essere orgogliosi di quel che si è. E il fatto che anche la psicologia moderna si è concentrata tantissimo per il benessere psicologico, oltre che fisico, sull'autostima, ma ci fa capire quanto nel mondo antico avessero già colto i principi base dello star bene. Quindi non è che se ne uscivano così in maniera casuale, o perché uno sente un concetto tramandato semplicemente dalla famiglia, o dalla società. Venivano sperimentate queste cose, era qualcosa di sperimentato, qualcosa di messo in pratico, e in cui veniva anche pesato il benessere da cui poi si traeva dall'attuazione di questo tipo di di Virtus. Assolutamente sì. Giusto che abbiamo un minuto prima di andare in pubblicità, appena torniamo, andiamo a vedere quali sono i passaggi chiaramente per ritornare da un certo punto di vista ad avere questa forma di equilibrio dell'autostima di cui giustamente parlava Michele, parlavamo insieme, come fare di conseguenza a riscoprire in un mondo di rovine direbbe il sommo maestro Evola quella che può essere veramente la nostra maestà, il nostro orgoglio di appartenenza, soprattutto a che cosa? Perché in effetti ad alcune istituzioni è difficile cazzo essere orgogliosi, cioè quando vengono rappresentati da qualcuno che dice ma io non ci voglio credere che veramente il tal soggetto sia la sintesi di un tal ministero, di un tal ruolo e via discorrendo, ok? Come riuscire a riscoprire quindi quella maestà ed esserne portatori attivi perché ricordiamolo che seguire la tradizione non è conservare le ceneri ma è trasmettere la fiamma.